Ragazzuoli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi sono fiera e lieta di presentarvi questo nuovo prodotto che mi è arrivato proprio qualche giorno fa. Sto parlando ragazzi del portatile Omen 15. Ragazzi, questo portatile è una vera e propria bestia. Io ragazzi ho avuto modo di provarlo, infatti vedrete anche il gameplay che è appunto stato registrato direttamente dal portatile e attaccato ovviamente a un mio monitor per via comunque di avere la comodità maggiore. Ragazzi, questo portatile è una vera e propria bestia. Stiamo parlando di un portatile contenente la scheda video RTX dell'NVIDIA, una 2080 ragazzi. Quindi parliamo di una scheda video allucinante. È di un processore di settima generazione, quindi le prestazioni ragazzi sono sicuramente molto, molto, molto elevate. Ovviamente ragazzi come potete vedere fin da subito su questo portatile il suo profilo è molto, molto sottile. Parliamo di circa 20 mm, quindi è molto comodo da portare in giro, da portare durante i nostri viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Come potete notare dispone anche della tastiera retroilluminata, quindi l'effetto RGB, perché quello ragazzi non può mai mancare, è il monitor da 144 Hz, che è una delle cose secondo me più fondamentali quando si parla del gaming, specialmente competitive. Inoltre ragazzi, una cosa molto importante perché c'è da dirlo, perché i portatili magari molto spesso tendono ad avere, non è proprio un problema ma essendo che magari hanno dei componenti molto potenti, e magari si gioca un gioco con una grafica adulta, ad esempio, i portatili tendono a scaldare molto. Ma questo portatili in particolare, quindi l'home in 15, dispone di un sistema di ventilazione diverso, ovvero che le pale sono molto, molto più grandi. Quindi ovviamente pale più grandi uguale vento a mai finire, quindi raffredda che è una meraviglia. Come vi ho detto anche prima, ragazzi, appunto, dispone della scheda video RTX. Anche qualche giorno fa, in live streaming su Twitch, ho fatto vedere la differenza su un gioco chiamato Control, che è un gioco dell'Epic Games, dove attualmente su quel gioco è già disponibile provare l'RTX, il Ray Tracing, che è possibile provare solamente quelle scritte video RTX. Il Ray Tracing, ragazzi, è un qualcosa di straordinario e io sinceramente non vedo l'ora che arrivi su molti altri giochi. Attualmente l'abbiamo provato appunto su Control, ma molto presto dovrebbe arrivare anche su. Il Ray Tracing, ragazzi, fondamentalmente è una tecnologia che permette di simulare una vera e propria simulazione di luci, di ombre, di riflessi, di luminosità, che proprio lo simulano, nel senso che lo fanno diventare come se fosse vita reale. Io, ragazzi, l'ho provato in live, come vi ho detto, e io insieme a tutte le persone che stanno guardando la live siamo rimasti scioccati, perché è allucinante che un gioco possa sembrare super realistico, grazie a questa nuova tecnologia. Quindi sì, ragazzi, questo portatile è davvero, davvero una bomba per giocare, per streamare, per fare qualsiasi cosa, per lavorarci. E di design, devo dire che è veramente, veramente molto bello. Quindi complimenti ad Omen per questo fantastico portatile. Davvero molto, molto, molto bello. E soprattutto prestante al 100%, ragazzi. Quindi niente, ragazzi, che dire. Io vi lascio qui sotto, in descrizione, sotto questo video, quindi proprio qui sotto, dei link, che ovviamente, se siete curiosi di vedere questo prodotto in particolare, o comunque vi faccio vedere anche che tramite un link, troverete proprio una bundle con i giochi, eccetera, eccetera, con le schede video RTX. Quindi, ragazzi, vi fornisco dei link che magari potrebbero ritornarvi utili, perché è solo che anche molti di voi giocano direttamente dai portatili, per una questione di comodità. Quindi sì, ragazzi, in questo video trovate tutti i link in descrizione, da parte di NVIDIA, da parte di Omen. Quindi niente, ragazzi, davvero, questo portatile è una bomba e sono felice di averlo potuto provare. E ora, ragazzi, andrete a vedere il gameplay. Quindi, guardatevi questo fantastico video, lasciate un bellissimo mi piace per supportarmi. E nulla, ragazzi, buon video, buona visione. Mincia, che vuoi fare? Dove andiamo? Eh, non lo so. Secondo me uno deve andare a sinistra o a destra, che secondo me è tipo... Ok, noi è Tilted, ragazzi. No, non lo fa un brodo. Secondo me dovremmo fare Tilted e Retail. Non dobbiamo fare Retail. Non mi ha rete. Ah, io sono PUD e lei. Mincia, ci prendiamo il main? Poi tu non ce l'avete in mina, dannate. Noi senza PUD? Superiamo tutti, tranquillo. Quando andate? Io sono Pesto, lui è un PUD e lui è un PUD. Ha parlato quello che si fa ammazzare da un albero. Vabbè, io e te siamo morti. Vabbè, dovevo che se gliela racconta a Vincenzo. È pieno, vince comunque. Sì. E il main purtroppo è preso. Vabbè, quello che c'hanno. È morto. Oli s... È stato bello giocare. Uno l'ho ucciso, vince. Eh, Marti, io sto tirando 20 verso il D, ma penso di essere morto. Chila. 119. 152. 126. Bravo. Però il cartone è stato. Quattro dai. Andavo al barrel più poi. Adesso ci vuole un pump. Ma andiamo a ammazzare le piene. Eccolo, eccolo. Eccolo, è stato dei negozi. Blu. Occhio. Non sa. Maiale. Non lo vedo. Eh, madonna. L'hai preso? No, non sbagliato. No? Sì, sì, sì. Sì, stai prendendo la guardia. Apre. Mi sono ruggito. Sì, scelta. Mi sono ruggito. Mi sono ruggito. Mi sono ruggito. Parerano cado. Non è morto subito. No, sono altri. Sono altri su dove. Non ho shield, ma andiamo, andiamo, andiamo. Mi fa un pietra al proprio porto. Sì, sono qui, sono qui al main. Mi sento. Sì, 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 sì. Quanto sopra diretto io? Favo una sting clean. Ah, non l'hai buttato, non l'hai buttato. Eh, abbiamo uno sotto. No, vabbè, perché ha fatto una cosa? Sto giochi di merda, mi sanno. Dio me. Allora. Mi muore. Una porta, mi c'è? Certo, si è fatta massimo. Morti due. L'ultimo, allora, l'ultimo, l'ultimo. Con là, nella casa. Tutta bombe. Oh, c'è un altro dietro di me. È l'ultimo. Tenete a bianco? Buono, 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 buono. Vieni, fatti un medikit. Io vorrei spautare e rimanere qua. Tipo con i rift. Vedo un attimo a pleasant. Vario ancora anch'io a me. C'è uno qua, c'è uno qua, Marti. Ok, l'altro è là. Vado da quello sopra, ok? Ok, vado da quello sotto. Anzi, no, 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 è meglio stare insieme perché non abbiamo scelto. Sì, è sempre lui. Sì, è morto. Sì, anche io ho visto. È tre yarder questo qua da me. Ok. Ti ha fatto male? C'è più cento di legna qua. Grazie. Dov'erranno via. Ah, no, ho buttato. Io posso... È sopra la montagna, però. Non posso challenge all'amicia. Io questo l'ho ucciso. Ah, te l'ho fatto indiruggendo, vai. Ma ha fatto malissimo quello sotto. Vuoi delle bende? No, no, ho tutte. Esplosa, esplosa. Faccio un big. Hai i scelini per me per caso? Ne ho una. Allora, no, ho fatto. No, no, ho fatto. No, ho fatto, ho fatto. No, ho uno. Sì, ancora accompagnato sulla montagna. Capito sulla montagna. Questo è un problema. Ma ti mazza hai? Perché... Te l'ho per formare. Io ho uno, uno. Quanto è questa? Storgo con te, Nike. Sì, avevo usato la montagna che ho bullato. Questo qua è morto. È morto, questo. Ci sono un po' di mazza per me per caso? Penso, scendine fatelo. Tipo, ha esploso il brain. Ma non ho visto. Ma che sa uno? Aspetta, attento. Lock out uno. Morto uno. Lo abbiamo venuto a martedì adesso. Morto un altro. Sì, erano low. Ma, ma è scritto. Oh, c'è tua. Spero? Ho un minimo in c'era. Lo butto qua? Raga, questa è un bot di roba. Oh, no. Oh. Arriva, arriva, arriva. Ma dai, ma che c***o però. Dai, vabbè. Sento che c***o qua. Ah, c***o. Spring dead. Si è persa se sta qui fa le squad? Aspetta, ma più, più. Questo è che bot. Sì, è persa. Eccoli, vince. 30-30. Non so che mi risposta. Sì, è un po' di rivolgita. 30-30 bianco. 30-30 bianco. No, impiazzisco se me lo sirano. Potrei impazzire. Potrei impazzire. Morto uno. Dovrebbe essere pure l'altro bianco. Sì, è bianco, è bianco. È l'ultima. Forse è una massa qualcuno. Forse. 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 C'è un po' di rivolgita. Penso che stiamo a fare l'ultimo 4-3-4. Eh sì, allora la vediamo l'ultima voi. E via gente, il serpentone deve esso. No, non c'è via di qua. Sono amare questa cosa, signora. Eh, ma non giro per me perché c'ho... Martinsiavano scudini. No, ne ho 15. Come? Serio? Non abbiamo avuto tutto il game? Non c'è, ma io c'è il 40, non perciò. Ce l'avevano tutti loro. Vai, uno stacchino. Sì, guarda se chi gioca. Sì, guarda se chi gioca contro lo scud, qui mi arriva lì, io faccio un bello rip rip. Sì, dopo non ho pad. Ne manco io. Come si usa sto coso? Perché non accelera? Non ho messo la nafta. Perché non accelera? Il cazzo si è guidando. Ma lui è col pad, capisci? Rains, purello. Funziona, non c'è. Col pad non funziona al Mac. Oh, ok. No. Ho fatto con un pad. Come usare tu il mio sprecato? Martinsiavano, penso che li ho visti, Martinsiavano. Ok. Vabbè, li trovano tutti loro. Ma chi l'hai, Andre? Sì, sì, sì. Ma siamo tutti lì, a chi? Oh, 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 siamo 18 pari, Andre pusha! Oh, cazzo, corri. Vincia. Pusha! Oh, Andre si è guidato. Grifali, grifali, grifali. Uno, due. Grifali! Oh, se usate il Mac non vale? Ma quale Mac? Ma gli sar, ti faccio 200 questo, guardalo. Ma qua, bello di casa. Ti le valda in meno due? Martinsiavano, vincione? Porta uno. Questo è one shot. Ridicolo, ridicolo, Andre. Sei ridicolo. Questo è one shot. Morto, vincione? Ma, passi il lato Martino, vabbè. Vabbè, io mi sentito. L'ultimo sta sopra. Questa vita è correnda. No. Prendimi, safe. Prendimi. Prendimi. Vengo che è lì giù. Mi c'era da qui. Blu? Ehi, come cazzo sa? Stai vincendo. Stai vincendo. Stai vincendo. Bianco. Ma dove devi andare? My fucking kill, boy. Andre, se lo è ridico. Ah, ai, ai, ai. Ridicolo. Che cazzo sei venuto a fare, Andre? È stato solo passato. Potrei impazzire. Dai, 40 però, ragazzi. Non è soddisfacente. Assolutamente. Cioè, ci aspettiamo di più da voi però, eh. Vabbè.